Un uomo limpido in cui non c'è falsità, così Gesù nel Vangelo di Giovanni descrive Natanaele, il discepolo che morirà martire, che con immediatezza esprime il suo affidamento al Signore. I fedeli della piccola comunità di Statale, nell'Alta Val Graveglia, lo hanno ricordato così nel giorno in cui nel paese hanno celebrato la festa del titolare della parrocchia, di cui l'invito, formulato dal parroco, a fare della propria vita un dono. Che la nostra parrocchia e ciascuno di noi possa affidarsi a Lui, al Signore, allo stesso modo, che possiamo vivere lo stesso atteggiamento di Bartolomeo. Quindi la capacità di riconoscere la vita come un dono, un dono gratuito e viverla in quel modo. La festa prevede un tempo di preparazione, la messa e la processione, una tradizione molto antica che gli abitanti del paese ricordano bene. Era un giorno in cui si mangiava diversamente, anche, specialmente nel primo dopoguerra. Si facevano la torta di riso, le baciocche di patate, la carne, insomma, che durante l'anno scarseggiava, diciamo. Oggi, a portare avanti la festa, c'è un comitato di una ventina di persone che si prodiga in cucina e nell'organizzazione delle serate di intrattenimento legate alle celebrazioni religiose. Nel comitato della festa siamo una ventina, purtroppo sempre meno, e ci dobbiamo sovraccaricare di tutte le funzioni, dal mangiare, dalla lotteria, dal bar e varie. Venerdì abbiamo fatto la tombolata, sabato abbiamo fatto il karaoke, e oggi c'è la festa con la processione, poi abbiamo fatto da mangiare in piazza. Statale d'estate si ripopola e soprattutto per la festa patronale sono molte le persone che tornano al paese, legate alla tradizione e ad una devozione che, sebbene mutata nei suoi tratti esteriori, è sempre viva. È bello attraversare i caruggi e vedere scorazzare i bambini, gli schiamazzi, cosa che per gran parte dell'anno purtroppo non è così. Recentemente abbiamo allestito anche un parco giochi ed è per questo che le famiglie salgono anche qua per condividere una giornata intera, non solo il momento della festa, ma l'intero giorno addirittura anche fermarsi proprio il weekend della festa.